Allora, buongiorno a tutti. Io sono Chiara Raffaini e sono consigliere dell'Ordine degli Architetti di Bergamo. Vi porto i saluti di tutto il Consiglio, in particolare del nostro Presidente, l'architetto Marcella Datei, che ringrazio per avermi invitato qua a presentare in qualità di consigliere più giovane del Consiglio. Con molto piacere do il benvenuto a un nostro collega, l'architetto Alfonso Femia, dello studio 5 più 1 AA, che è uno studio che ha sede a Genova, ma anche a Milano e a Parigi, quindi è uno studio riconosciuto anche a livello internazionale. E vorrei ringraziare anche Talcementi, che organizza questi incontri e queste attività, che parlano di approfondimenti dell'architettura e che riesce a collaborare con diversi enti e società, come ad esempio in questo caso con interni. Mi fa piacere vedere molti studenti presenti questa mattina, anche perché spesso quando parliamo di questi argomenti, quando si parla del mondo dell'architettura, siamo quasi sempre noi architetti, quindi parliamo fra di noi. Invece voi studenti sarete il futuro e potrete scegliere se proseguire in questa direzione, quindi scrivervi ad architettura piuttosto che design e quindi affrontare questa professione che diventerà, vedrete, uno stile di vita, oppure potrete scegliere di non iscrivervi, ma comunque di essere dei fruitori, dei fruitori consapevoli e preparati sul capire la bellezza degli spazi e dei progetti. La formazione, sappiatelo, non finisce mai, non finisce con un diploma e nemmeno con una laurea, ma continua durante tutto il vostro percorso professionale. Ne ho un esempio il nostro collega, l'architetto Femia, che continua a fare ricerca e approfondimenti durante la sua professione. E' un esempio anche i talcementi che continua a fare innovazione e ricerca. Anche presso l'ordine degli architetti, io sono del gruppo di lavoro giovani, quindi mi occupo con il mio gruppo di lavoro di raccogliere le esigenze e di parlare con i miei iscritti. Una grande esigenza che c'è per chi esce dal mondo dell'università è quella di capire come poter fare la libera professione. Per questo ogni anno organizziamo degli incontri. Quest'anno questo ciclo di incontri si chiama Architettura Backstage, dove portiamo dei colleghi, architetti ma non solo, anche ingegneri, gli stessi committenti dei progetti, li portiamo all'ordine e gli facciamo parlare di progetti d'architettura in modo molto interattivo, quindi condividendo le loro esperienze e acquisite negli anni di lavoro e tutte le conoscenze che hanno. La sfida per chi sceglie questa professione adesso è molto complessa ma appunto per questo è più avvincente, non è sicuramente un lavoro noioso e non è il classico posto fisso, quindi ci vuole molta passione per portare avanti questa scelta, questa professione. Ora vorrei lasciare la parola a Matteo Percelloni e vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie Chiara, ringrazio l'ordine degli architetti di Bergamo, saluto gli studenti dell'Ecceo Artistico Manzù e dell'Istituto Fantoni di Bergamo e riprendendo quanto ci ha detto Chiara, anche io diciamo che vi dico che non si finisce mai di studiare ma che l'importante è essere sempre curiosi nella vostra vita e essere curiosi di tutto. Allora oggi presentiamo Alfonso Femia, un amico, siamo alla seconda conferenza del quinto ciclo che Interni organizza durante il fuorisalone di Milano in occasione dell'evento che anche quest'anno è organizzato all'Università Statale di Milano e vi invitiamo a visitare, è aperto fino tra l'altro il 23 di aprile. Qualche parola per introdurre Alfonso e il loro lavoro. Alfonso Femia e Gianluca Peluffo fondano il loro studio, come diceva appunto Chiara Genovese, il primo e le sedie che ci sono a Parigi e a Milano. Il primo studio è fondato vent'anni fa, nel 95-21, ma soprattutto fondano un sodalizio umano e professionale che continua nel tempo. Rifiutano ogni verità prechi costituita e sono lontani dall'idea di perseguire uno stile. Il 5 più 1 ha le esibizioni iconiche di stampo muscolare alla rincorsa della definizione di architetture spettacolari e autoreferenziali prediligono le storie dei diversi luoghi e dei contesti a cui rispondere di volta in volta con un linguaggio che loro stesso definiscono libero e contemporaneo. non seguono neanche le mode dell'integralismo ecologico, non indossano quella che il loro amico, l'architetto Rudy Ricciotti, con cui hanno fatto la sfortunata avventura del Palazzo del Cinema di Venezia, chiama appunto Pelliccia Verde, una facile architettura sostenibile che in realtà è un maquillage di verdura sulle facciate. Pensano piuttosto all'architettura come strumento per raggiungere la conoscenza del reale perché, come loro stessi dicono, il dovere dell'architettura è di non rinunciare a immaginare un futuro migliore. L'idea di un sommergibile che potete vedere nel loro sito, che è una specie di icona, di un simbolo, è l'idea di uno spazio silenzioso che avanza sotto il filo dell'acqua, lontano dal rumore. E questo simbolo dello studio è in realtà una metafora, una sintesi di un modo di procedere, dove il progetto di architettura è appunto frutto di una meditazione lenta, di un percorso da costruire ogni volta, che porta a soluzioni specifiche, declinate luogo per luogo, nei diversi contesti urbani e nei diversi paesaggi incontrati nelle occasioni di progetto. Sono degli outsider, secondo me, della scena italiana e internazionale. Procedono secondo un processo compositivo e progettuale che potremmo definire polifonico, dove emerge una preziosa e grande complessità espressiva, di volta in volta sviluppata per melodie diverse. Una libertà che non significa però un ritorno nostalgico alla stagione di un rinnovato eclettismo, ma piuttosto l'adesione al principio della specificità. Significa per loro affrontare casi e problemi progettuali, sempre diversi tra loro, e rispondere ad ognuno in modo diverso. E questo è anche un rifiuto del concetto dell'eredità modernista dell'università concettuale di soluzioni precostituite dal punto di vista compositivo, ma soprattutto ideologico. Emerge nei loro lavori un atteggiamento aperto alla ricerca e alla sperimentazione declinata al carattere dei luoghi. Siano essi edifici esistenti, come il complesso dei DOCS di Marsiglia, vincitore del premio Best Shopping Center al MIPIM del 2016, dove, come vedremo, il loro approccio è stato di operare su un grande manufatto storico funzionale, con aggiunte, lesioni e dei benefici, diciamo, delle contaminazioni materico e figurative. Oppure anche sia che si tratti di opere ex novo, al margine dei tessuti edificati, oppure che si tratti di nuovi brani urbani calibrati nei diversi contesti, come un altro recente progetto, la sede romana del BNL BNP Paribas, che potremmo definire come una sorta di corrazzata urbana di vetro che con la prua viene calata come segno connettivo nel tessuto della capitale. Si tratta in sostanza di un procedere per variazioni, dove il dubbio e la sua soluzione si contrappongono ai percorsi propri di alcuni filoni dell'architettura contemporanea, che sono appunto quelli della decontestualizzazione, della propensione alla spettacolarizzazione iconica dell'edificio che rimane compiuto in sé a prescindere dal contesto o dell'esaltazione dello stile linguistico. Tutto questo è sostituito dei 5P1 da alcuni temi guida, che mi preme elencare brevemente, e che servono a raggruppare, a unire tra loro le diverse opere costruite. Questi principi sono la generosità, cioè la condivisione e pensare che ogni architettura è pubblica in sé, il corpo, rapportarsi all'esistente, con la propensione al dialogo e al confronto, evitando il monologo e l'autismo, e infine la meraviglia, lo stupore, più che esaltazione della soluzione formale, uno sforzo di ritornare a vedere la realtà e a svelarne il senso attraverso la sua conoscenza. Alfonso Femia, diritto alla materia. Non si può più parlare dopo questa presentazione. Grazie Matteo, grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie ai tracciamenti, grazie a Bergamo, che siamo vicino, che è una città come raccontavo prima, a cui sono molto legato nella mia storia, avendo fatto la tesi di laurea sulla città di Bergamo. Possiamo spegnere le luci e magari così proviamo a fare un piccolo percorso insieme. Parto da una cosa, perché poi quando si fanno queste sintesi sono, insomma, anche viste da seduta, sono particolari, ma anzi ti ringrazio perché molte cose che hai detto sicuramente, oltre ad essere vere, racconto in maniera molto sintetica alcune cose, però mi piace dire alcune cose personali, perché poi secondo me, soprattutto perché abbiamo davanti gli studenti, è importante capire che alla fine esistono delle storie che sono determinate da chi siamo, da dove veniamo, dall'esperienza delle persone che incontriamo. E non posso non iniziare dicendo una cosa, iniziando una cosa più recente. Due anni fa, in un momento storico molto particolare, come quello contemporaneo, in cui viviamo, come si è visto anche da questi primi minuti, estremamente connessi, estremamente in grande comunicazione, in realtà ritengo, riteniamo che questa connessione continua a essere, questa grande comunicazione è a lavorare sulla superficie. Due anni fa, in una conferenza a Hong Kong, iniziavo con un'immagine, diciamo, di surf, il grande sport individualista sulle onde, e dicevo proprio che viviamo un momento di architettura dove permanentemente si surfa, si sta sulle onde, si fa spettacolo, nel suo tempo affianco a quello, invece contrapponeva un'immagine della coda di un capodoglio che, come voi sapete, le grandi balene, prima di immergersi fino a mille metri, stanno in sospensione per 60 secondi con la coda e poi vanno in profondità per scomparire e poi per riapparire in maniera silenziosa, poi lo sbuffano. Per dire che in realtà c'è molta contraddizione alla contemporaneità, c'è molta anche ipocrisia e pochissimo di valore. Allora, molto banalmente, due anni fa, alla Biennale di Venezia, al Teatro della Fenice invitiamo una serie di persone per parlare di qualcosa che è semplice, però forse c'è più semplicità, che si esemplificava in questo panflet, che era il dialogo come strumento di progetto, ma che partiva in realtà dal retro della copertina, che era il progetto come strumento di dialogo, che non vuol dire andare d'accordo, vuol dire tendere a un'unità, tendere a un confronto, tendere anche a guardarsi e stabilire anche alcuni principi significativi. Poi il dialogo per noi veniva dialogato e declinato in almeno cinque atti importanti che venivano e vengono tenuti insieme dal sesto, ovvero dal tema del viaggio su quale poi ritornerò. E questi cinque per noi dialoghi sono quelli che in qualche maniera, oggi più che mai negli ultimi anni, stiamo mettendo a fuoco, ma che ci hanno attraversato e che in qualche maniera ci hanno messo in condizione di esplorare, in condizioni particolari il rapporto con l'architettura. Quindi il dialogo con la città, il dialogo con la storia, il dialogo con la materia, il dialogo con la committenza pubblico-private che sia sia, il dialogo con la tecnologia. Cinque momenti che in qualche maniera sempre avvengono nell'esplorazione del progetto che, come io spesso introduco ormai da otto anni, quando presentiamo un corsio in Francia, soprattutto inizio con l'idea che per noi il progetto è una storia, è raccontare una storia, c'è un tema di narrazione importante. E inizio anche con questa immagine, quasi ormai più di 12 anni fa. Questo è il modello per la facciata del Palazzo del Ghiaccio di Milano, un edificio, l'ingresso del Palazzo del Ghiaccio abbastanza senza significato, senza grande qualità, dove il tema di quel piccolo frammento, diciamo, edilizio, a fianco invece al Palazzo del Frigorifero, all'intervento della facciata rossa che abbiamo fatto, riconoscevo la difficoltà di qualsiasi strumento progettuale per poter risolvere quel problema lì. Allora abbiamo iniziato a lavorare con la materia, ovvero abbiamo coinvolto un artigiano, un artista di Albissola, un amico, un ceramista, e proprio per prendere quasi distanza, quasi come difficoltà. Per affrontare il tema abbiamo cominciato a fare dei modelli di ceramico, ovvero cercare di capire come l'anima di un altro materiale, che è il materiale con cui l'uomo ha iniziato a fare delle cose, il materiale più antico della Terra, che poi si plasma con le mani, che quindi automaticamente crea un'empatia diversa, potremmo in qualche maniera rimettere in discussione alcuni temi per avvicinarci. Perché? Perché la nostra storia è quella di aver studiato in un momento bello di Genova, io non sono genovese, sono calabrese, è cresciuto in Iguria, ho incontrato Genova studiando all'università, lo amate in un momento e lo amo tuttora avendo la scelta, in un momento in cui la città non era quella che poi è ritornata a essere dal 92 in poi, ma si è cresciuta attraverso una serie di incontri all'università in cui si è cresciuta attraverso la teoria del dubbio, come veniva detto prima anche della teoria della certezza, dove l'architettura è proprio pensato come un avanzamento per domande, per azioni e reazioni, per dubbi, soprattutto perché amanti di città e del territorio, forse dopo diversi anni mi rendo conto che la vera maestra, il vero punto di riferimento per noi è Genova. Genova citando il super citato Calvino, forse è la nostra città invisibile che ci portiamo dietro, perché Genova è quella città straordinaria che entra direttamente senza soluzione di continuità, l'infrastruttura, il paesaggio, la città, ci si cade dentro, dentro una città che è lunga nel suo cuore 5 km, 7 km, profonda 1 km, stretta tra mare e montagne, dove questa esigenza di non avere superficie è stata sempre un meccanismo per inventare situazioni, inventare situazioni che però non sono immediatamente visibili, perché dentro la città ci si deve cadere ed è sempre stata una città estremamente coraggiosa, sbagliando pure, ammettendo il fatto che si potrebbe sbagliare, tale per cui in questa condizione estremamente particolare di non avere territorio, ha stratificato i diversi paesaggi. Oggi io racconto sempre in queste immagini, queste foto sono di Ernesto Caviola, un'amica che da anni ci accompagna sui certi momenti del progetto e della ricerca attraverso lo sguardo del fotografo e quando io per vent'anni ho insegnato, prima di dedicare un po' più alla Francia, purtroppo perde un po' più il tempo per l'insegnamento, però raccontavo sempre agli studenti cos'è la quota zero, diciamo, di rapporto all'architettura, il tema del rapporto, in una foto come questa qual è il rapporto della città della quota zero, la bacino di Carinaggio, la linea portuale, la sopraelevata, la città troncentesca, la città storica, la collina dietro, tutto questo avviene in una maniera continua, con continui cambiamenti, metodo dopo metodo, dove la logica dell'invenzione, la logica di posto alla domanda, è estremamente significativo, e dove ogni cosa cambia ruolo nella sua percezione, ovvero ogni volta è messa in scena un reale, un rapporto col territorio che non è scontato, e allora basta salire di quota e il rapporto del teatro di Aldorossi, che ha una sua logica troncentesca nella piazza principale, cambia rapporto quando si sale di pochi centinaia di metri verso l'alto. Allora, in questo contesto straordinario, dove succede qualcosa altro di molto importante, ovvero dove il rapporto vero della città e le criatura avviene in un concetto che noi chiamiamo di intimità solo quando si cade dentro gli edifici, perché la città si rappresenta in maniera mai estremamente monumentale, spesso attraverso anche grandi capacità genovesi, voi dovete sapere che Genova, o dicono non genovese, quindi non sono un fazioso, però Genova è quella città che per secoli è stata la banca d'Europa, è la città che così piccola dava i finanziamenti alla Spagna, all'Inghilterra, alla Francia, e che aveva questa grande ambizione, grande città di famiglia, di essere al pari grado, e quindi mentre Luigi XV faceva Versailles, le grandi famiglie nobili di Genova costruiscono via novissima, grandi palazzi che lavorano sulla sezione della facciata, dove il modo di rappresentarsi della via è di tipo pubblico, ma significativo, e all'interno dei palazzi, dove bisogna entrare dentro, dove bisogna entrare in contatto, dove bisogna andare in profondità, c'è un'idea di intimità, di disvelare lo spazio, il rapporto col paesaggio è straordinario, allora questo ci ha portato sempre a dire che c'è un modo di rapportarsi col territorio, col paesaggio che non è mai scontato e non può difficilmente per noi stare dentro delle regole codificate, dalle regole o delle condizioni si può partire, ma poi bisogna mettersi in gioco attraverso alcuni dei termini che ho usato prima mattina. Prima di parlare di tre progetti che provano recenti a raccontare alcuni dei temi più recenti dello studio, faccio una caralata di un percorso, quando parliamo di città-territorio, noi amiamo quelle città un po' come Bergamo, quelle città tale per cui questa soluzione di rapporto col territorio ha un paesaggio continuo, in un concorso importante, uno dei primi dove quando siamo stati invitati, quando abbiamo aperto lo studio a Parigi, è quello per lo stadio Velodrome, per gli europei di quest'anno. E dove uno dei temi molto forti, noi abbiamo spostato il baricentro del tema dallo stadio alla parte urbanistica al fatto che quest'asse importante che è Luvon, un fiume che accompagna tutta questa parte qua di Massiglia, dove a fianco abbiamo una città radiosa e Corbusia arriva fino al mare, doveva diventare un grande corridoio verde. Il grande risposto del progetto voleva essere costruire un grande spazio pubblico da ridare la dimensione territoriale del progetto e quindi costruire invece sull'asse urbano, quello che vedete dietro lo stadio e davanti, la parte urbana. Non abbiamo vinto questo concorso, ma alcuni anni dopo, proprio per questa impostazione urbana, ne vinciamo uno a fianco, che cerca di rimarcare questo aspetto e adesso siamo invitati in un altro, sempre su quest'asse, dove si sta cercando sulla base di un errore che la città in qualche maniera poi ha confermato il fatto che l'impostazione strategica della città a livello territoriale è stata poi sbagliata. Questo lo dico perché il destino che un progetto venga realizzato non dipende solo da noi, ma la responsabilità che noi diamo al progetto, nel momento in cui viene pensato e proposto, deve essere qualcosa di importante. Quindi lo dico perché occorre metterci una passione e una volontà molto forte al progetto, che non è solo strategia, che non si è logica relativamente al concorso, ma è la possibilità di costruire nel tempo un pensiero e non un'idea. E questo processamente lo ritroviamo spostando di diverse migliaia di chilometri a sud in un'esperienza particolare fatta alcuni anni fa, da alcuni anni, da quando siamo in Francia, abbiamo iniziato a esplorare come momenti particolari tutto ciò che avviene in Nord Africa, dal Marocco iniziano a lavorare a Tangeri, la straordinaria prima città diciamo di collegamento con l'Europa e poi in Algeria da alcuni anni, paese che io ho cominciato a conoscere proprio grazie a questa esperienza, paese straordinaria, con città straordinarie, fondate dai romani e poi ben sviluppate dai francesi e con condizioni anche molto particolari che non esistono più in Europa, c'è un mondo molto vicino a noi che ha dei temi che noi non abbiamo più. Come costruire una città di fondazione nel deserto rosso di Adrara dove c'è un vento a 50 gradi che va a 150 km orari e che dove normalmente tutte queste basi vengono concepite come grandi roccaforti militari quindi con poca impostazione e dove noi invece ricostruiamo una logica fondativa basata sulla natura, un grande quadrato dove un filtro di muri a altezza differente con filtri di filare di alberature differenti che trattengono la sabbia, costruiscono le dune per poi avere un'impostazione centrale dove i sistemi collettivi degli spazi vengono messi come il decumano principale e la parte invece privata, la parte più intima, si struttura con un po' dei giardini sull'altra classe, creando una relazione chiara tra le parti e rimettendo di nuovo in ordine un rapporto tra dimensione collettiva pubblica, tra dimensione intera, anche in un contesto molto particolare. Città che vengono sviluppate per estrarre l'olio e il gas che però ospitano più di mille persone a rotazione ogni sei mesi e dove noi abbiamo cercato di dare dignità di essere una città, un luogo dove anche in quelle condizioni di lavoro potreste avere alcune connotazioni particolari e dove qui la natura, un po' come in queste esperienze che stiamo invece vivendo in Egitto, altro paese molto particolare, diventa un rapporto di contesto molto particolare. Sono esperienze complicate perché naturalmente non siamo più abituati a gestire queste dimensioni, siamo in condizione di una dialettica di confronto con le culture, ma è lì la sfida che è interessante, poi potremmo dare un risultato, un giudizio alla fine del percorso, però sono temi che se si affrontano con una logica in cui quei cinque dialoghi che dicevo all'inizio sono sempre sul tavolo, sono estremamente importanti per poter lavorare diversamente. E questo ci ha portato in questi anni a affrontare dei temi strategici, oppure noi non abbiamo una formazione urbanistica, all'inizio si discuteva che non abbiamo una formazione urbanistica e non possiamo lavorare sulla città, no, perché? Sarà perché sono calabrese, quindi se dovessi pensare a tutto ciò che potrei fare come calabrese fare molto poco, ma invece è un tema di esplorazione e anche forse avrei anticipato una logica tale per cui il mondo stava cambiando rispetto anche al momento in cui stavamo, abbiamo studiato noi, in cui alcune modalità di approccio sono più determinate attraverso la progettualità come strumento di esplorazione, non come metodi che comunque in questi decenni hanno dimostrato anche di aver fallito come concetto. Allora abbiamo anche proposto una serie di committenti, un'idea di fare dei master plan strategici, cioè ovvero mettere in discussione in un momento attraverso degli strumenti che non dovevano essere subito pianificatori dei temi, l'abbiamo fatta a Istanbul in questo progetto, ma soprattutto a Velizy, una città particolare al nord di Parigi, che è nata per essere l'espressione classica del concetto di zonizzazione, perché la città ha la zona completamente residenziale, la zona degli uffici e il più grande centro commerciale di Parigi. E dopo lì l'arrivo di un nuovo trame che si lega alla nuova struttura del Grand Paris, poteva essere un'occasione per rompere questo sistema qua. E noi l'abbiamo pensato creando un sistema completamente asimmetrico che lungo il tramway costruiva degli elementi trasversali dove all'interno di questi tassi, creando automaticamente con la posizione di questi edifici, delle relazioni di spazi pubblici e di funzioni di tipo collettivo, università, centri museali, residenze per studenti, quindi automaticamente creare una nuova spina dosale capace di uscire da questo sistema. L'uso del master plan strategico ha portato a fare in modo che la pianificazione successiva prendesse alcuni di questi elementi e li facesse proprio. Quindi si è deciso per esempio che dieci edifici che non avevano senso o era più costoso recuperare venivano demoliti per poter ricostruire un sistema di spazi pubblici e poi invece fare un edificio con questa nuova disposizione planimentica. Elementi che non abbiamo fatto neanche, diventiamo un dispositivo per l'amministrazione. Questo l'abbiamo fatto anche per questo grande progetto legato al Gran Paris, sul Mano del Vallée, tanti anni fa anche ad Assago, fino a queste esperienze sempre legate diciamo tra l'Oriente e tra Istanbul o impostazioni legate a questo grande centro nel paesaggio dal Chiro. L'esempio più forte è stato aver studiato questo per la città di Palermo avendo semplicemente colto un'attenzione. C'è sempre questa dinamica di discussione sulla città che poi spesso non porta a niente e molto banalmente noi avevamo fatto un'osservazione quando siamo stati chiamati per riflettere questo. Individuare sulla mappa della città a sette aree di proprietà comunale della città e provare a studiare come queste sette aree messe al sistema in un'unica strategia che poteva rimettere il sistema della città potevano diventare delle occasioni tematiche per avviare una procedura che immette il dialogo pubblico privato, ovvero dei project financing. La visione contemporanea di queste sette aree dimostrava una potenzialità straordinaria e un'attività e anche un'interfaccia forte con la città. Siamo il paese in cui presentiamo questo al teatro massimo, il giorno dopo la regione fa una legge speciale per poter fare in modo che questo strumento diventi attivo ma poi cambia la politica e anche gli strumenti diventano deboli. In questa logica di città alcuni progetti sono più quasi come la volontà di costruire modalità di relazione con la città. L'estensione dello Yulm a Milano, completata l'anno scorso, è più pensato come composizione di edifici che automaticamente costruiscono un sistema urbano al suo interno ma si relazionano verso l'esterno per cui la relazione dei percorsi, la relazione di mettere in evidenza ogni funzione che caratteristica l'edificio mette in scena reale, si relaziona anche con l'edificio a fianco che magari noi non abbiamo ma che è la realtà, quindi non volge le spalle a questo ma diventa un dispositivo per creare una relazione paesaggistica, territoriale, funzionale, è un elemento che in qualche maniera non è autoreferenziale per se stesso ma automaticamente a seconda del punto urbano con cui si relaziona costruisce dei modi dialettici di raccontarsi. Questa modalità per noi è estremamente importante per fare sì che ogni volta la risposta possa essere prevalentemente dialettica col luogo e dal luogo debba venire fuori. Noi provocatoriamente diciamo sempre al nostro team, ai nostri ragazzi che lavorano con noi da molti anni, che in realtà il progetto esiste già lì, bisogna essere bravi a rivelarlo e quindi il tema è capire quali sono gli elementi empatici, che luogo lo dice e spesso cerchiamo di fare in modo di non avere l'ansia di trovare subito la soluzione ma di ruotarci intorno. Questo ci ha portato ad esempio in un altro progetto, questo è un primo esperimento fatto vicino a Parigi ma che poi abbiamo declinato in questa scuola vicino a Zuliano dove un piccolo comune di poche migliaia di persone decide che l'architettura diventa l'elemento per affermare l'unica sua vera opera che poteva fare attraverso la scuola. Voi sapete tutto il problema enorme delle scuole in Italia e ogni governo dichiara che farà le 100 scuole in 100 giorni, però qui c'è stata una situazione particolare che noi stiamo sperimentando, ovvero di portare il concetto a sviluppare, per esempio durante il tema della materia, una scuola completamente in legno. Il vantaggio del legno non è tanto di diventare estremamente appassionante del legno che amo ma di capire due aspetti che possono risolvere una questione critica italiana. La progettazione in legno prevede che sia tutto previsto prima e assemblato come in laboratorio, in officina, una volta sviluppato il progetto non ci sono più problematiche di varianti in corso dopo perché si arriva, si monta e quindi non ci sono problemi di sforare i tempi e di sforare il budget. Questa condizione è calzante per la problematica italiana, quasi noi l'abbiamo scritto in più volte ai diversi presidenti che si sono succeduti con presarenza, certamente sarebbe interessante non decidere che bisogna fare due scuole in legno ma che potessero fare almeno le prime 20 per poter pensare che nell'arco di 18 mesi si possano avere 20 scuole veramente, uno come servizio ma uno per far capire che anche attraverso la tecnologia si può provare a fare l'architettura. E qui il tema era raccontare un rapporto con il paesaggio, come avete visto la copertura, lavora in questo contesto vicino a Vicenza particolare ma soprattutto introduce il tema poi della corte interna, della dimensione della cosa agricola, dell'intimità dei bambini che vengono anche protetti, ma automaticamente questo modo di relazionarsi tra il gioco, tra l'allegoria, tra il modo anche spontaneo di costruzione ha immediatamente fatto sì che le persone si identificassero da quel luogo, si sentissero appartenere a quel luogo. L'architettura come l'arte contemporanea negli ultimi anni ha questa potenzialità di essere l'elemento, il medium di grande condivisione. Recentemente vi esorto ad andarlo a visitare, per la prima volta in Italia abbiamo una grande opera di Cristò sul lago di Sero e dove dichiaratamente lui stesso dopo anni dice che l'arte è qualcosa che si avvicina per la capacità immobiliare, motiva di provare relazioni, dove il tema lì di questa installazione di Cristo è quello di poter camminare sull'acqua, sentire il suono dell'acqua più che inventare altre questioni, quindi dialogare con il reale. Da lì abbiamo fatto diverse esperienze, questo lo introduco perché in questo momento capirete anche da qui tutto un tema legato all'idea che l'architettura per noi possa essere qualcosa che nel modo in cui venga concepita interagisca il più possibile in maniera variabile con il luogo, con la luce, con questa idea accangente di non avere mai l'edificio che sia sempre uguale a se stesso in ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana, in ogni giorno diverso dell'anno, perché la materia, la modalità con cui si può costruire un edificio deve essere l'elemento prima importante per interagire con la luce. E allora la torre orizzontale, questo concorso che noi abbiamo chiamato torre orizzontale semplicemente perché il concorso prevedeva due torri e noi pro chiedevamo altri vincoli, doveva stare dentro un budget, doveva essere sostenibile, doveva essere realizzato in 18 mesi e noi sia perché a livello compositivo non credevamo che fosse corretto lì, come dire competere anche a livello figurativo con l'albergo di Perrault, la grande fiera di Fuxas e quindi noi abbiamo convinto, questo è uno dei primi progetti in Italia, come in Francia chiama concessione costruzione, fatta con candidatura dell'architetto e dell'impresa, ovvero è un progetto che doveva immediatamente dare la risposta anche tecnica e esecutiva. Abbiamo preso le due torri, le abbiamo coricate, quando le due torri si toccano si è creato un grande foyer alto 50 metri che crea quel sistema di piegature di essere uno e due allo stesso momento, ma è anche una risposta responsabile a un tema funzionale, se c'è la funzione più difficile da gestire nel tempo è il tema degli uffici e grazie al fatto che noi abbiamo fatto questa cosa qua, che abbiamo vinto, al tempo del concorso le due torri devono essere per Fiera e per delle società affiliate a Fiera, poi Fiera ha avuto i problemi che ha avuto, oggi avendo avuto un edificio che potrebbe essere distribuito per piano in maniera unitaria o separato, dopo due anni sono riuscita ad affittare la wind, quindi c'è un tema anche di responsabilità di capire come possa essere utilizzato, ma per noi c'è un tema molto semplice, ritrovo al tema del corpo, abbiamo sempre detto che in questi anni c'è un forte cinismo e ipocrisia comunicativa sul tema della sostenibilità, io da uomo del studio dico che la sostenibilità si traduce in buon senso, ovvero noi ci copriamo le spalle laddove arriva l'aria fredda e ci esponiamo al sole laddove possiamo scaldarci. Un edificio che è disposto in questo modo, che guarda verso nord e che deve proteggersi, è molto meglio che diventi monolitico con una grande facciata ventilata dove abbiamo disegnato questa lastra di fibrocemento particolare e diventarsi apre con quelle facciate che hanno tre tipologie di vetri particolari, laddove invece si può trattare beneficio. In questo modo otteniamo una specificità di risposta, un lavoro con la materia, un lavoro con il luogo, una risposta di budget, perché automaticamente 14.000 metri quadrati è sempre esclusivamente di vetro, per voler farli di vetro che non avrebbe senso, o per il proprio ego non avrebbe significato, e automaticamente l'edificio funziona energeticamente già da solo, perché si protegge laddove le protegge e si apre dove si le protegge. E automaticamente crediamo, introduce dei rapporti compositivi e forti molto più importanti. E questa è la cosa che abbiamo raccontato in diverse situazioni, anche nei primi progetti, anche nel recupero, come quello dei frigorifri milanesi, nel cercare di, come viene in questa immagine, di mettere in scena reale. Uno dei temi che per noi è estremamente importante è non tanto dire alle persone sui nostri progetti, guardate il nostro progetto, ma guardate cosa può accadere dall'interno del nostro progetto, la visione di ciò che c'è all'esterno. E quindi i frigorifri milanesi, per la prima volta, a 20 metri di altezza, 3.000 metri quadrati, da est, ovest, nord e sud, sono completamente trasparenti, galleggiando per la prima volta all'interno, diciamo, di un contesto milanese dove normalmente non succedeva quello. Questo è un progetto del 2001. Il committente, finito il lavoro, ha detto noi all'inizio non eravamo convinti di questo perché tu, voi avete fatto un po' la violenza, normalmente il milanese non vive in parti atti della città e meno che mai diventa trasparente. E quindi in qualche maniera ci avete obbligato a guardare, a relazionarci col cielo e col poesaggio. Questa cosa che immediatamente sembrava un po' violenta, poi è diventato un modo nuovo, diciamo, di rapportarsi, che poi dal 2001 abbiamo mille altri esempi. Mi soffermo su questo aspetto qua. Recentemente mi hanno chiesto di scrivere un testo su, anche se 50 architetti in Francia, perché in Francia c'è questa logica dell'ASCUE, che è tutto il tema della sostenibilità, che crea una serie di regole tali per cui, un po' come tutte le certificazioni in Italia, non solo, fa sì che automaticamente se noi dobbiamo sentire e semplicemente pedissequamente applicare questo, non serviamo. Non serviamo. C'è già scritto che gli edificiano avere degli schermi, che gli edificiano avere un certo tipo di spessore, che non possiamo fare delle cose. Quindi se facciamo questo, e queste sono le regole. Noi, voi, la vostra generazione vive anche un momento di formazione scolastica semplicemente fatta di regole. Tutto frammentato, che rispondete attraverso delle crocette, sì, no. E le regole fanno sì che uno, semplicemente rispettando le regole, pensa di aver assotto la propria dovere, senza aver posto un dubbio e soprattutto avendo annullato completamente l'idea di un pensiero. Perché le regole, semplicemente la risposta alle regole, annullano l'idea di pensiero. Mentre i vincoli sono quelli che permettono al pensiero di continuare a svilupparsi. Ai vincoli, voi dovete chiedere dei vincoli a cui voi dovete rispondere. Le regole, quelle giuste, vanno applicate, ma non trasformate le azioni di pensiero e non accontentatevi e lottate contro quelle regole che automaticamente annullano il pensiero. E allora ho scritto questo testo, che ha fatto un po' di, naturalmente, quei francesi che amo, ormai condividendo metà nella mia vita quei francesi, ma anche sulla forma sono molto particolari, dicendo che l'applicazione delle regole non porta né coscienza e né coraggio. C'è perdita di questo aspetto qua. E quindi ha il concetto di rendere tutto durevole, rendere responsabile, dal punto di vista ambientale, io contrapongo un'idea diciamo di passione, di piacere, di contraposizione all'ipotesia, al cinismo, un'idea di dubbio. E quindi il buonsenso, la risposta del dubbio, deve far sì che a noi progettisti, ma non solo, la società deve essere fatta per creare dei vincoli capaci di creare pensiero e di rifugire dall'idea che le regole siano quelle sufficienti. Quindi il dialogo, il dialogo fatto dai dubbi, diventa un elemento significativo. Perché se no anche l'edificio che avete visto di fiera, e adesso quello che vedrete successivamente, applicando le regole non si poteva fare. O meglio, esiste semplicemente un anomatole per cui dice che tutte le facciate esposte a sud-est hanno bisogno di schermi. Schermatura all'esterno vuol dire avere delle tende bianche all'esterno. Quindi o tutti diventiamo, facciamo tutti gli edifici come le facciate di piano, che poi vuol dire costose, vuol dire avere un linguaggio meno, oppure si fa un lavoro di ricerca sulla materia, si dimostra che l'amacondere è questo, si dimostra che il vetro, come il cemento, ha fatto l'evoluzione, che si può rispondere tecnicamente a quelle regole attraverso delle idee nuove. Ed è quello che abbiamo cercato di raccontare in diverse situazioni. In questo esempio, per esempio di Genova, è una storia particolare, perché questa è l'unica cosa che abbiamo fatto a Genova in vent'anni, ho fatto un piccolo passeggiata nella vecchia d'asse. La particolità di questo progetto è che è un progetto che ha 30 anni, la prima vera pianificazione urbana di un progetto urbano in un'area privata e pubblica del porto, e questo era l'ultimo lotto. Mentre si cominciava a costruire questo progetto, con l'autorizzazione, è permesso di costruire vecchio di vent'anni, con l'architettura vecchia di vent'anni, il committente romano, quindi non genovese, decide di fare un concorso per chiedere a degli architetti qualche idea per migliorare la facciata. E qui adesso vi dico una cosa che provo a raccontare quello di prima. Rispondo a questa lettera dicendo che la modalità con cui viene bandito questo concorso non la riteniamo corretta. Se vogliono fare un concorso a quel punto parteciperemo, noi come tutti gli altri, deve essere un concorso che preveda, non che noi gli facciamo lo schizzo e poi fanno quello che vogliono, preveda che chi vinca deve perlomeno seguire il progetto con una direzione autistica, preveda che non sia solo un tema di facciata e estetica, ma prevede la possibilità di rivisitare il progetto laddove l'idea lo permette. All'interno dei vincoli che è andato, mantenere, il cantiere è già aperto, i tempi di cantiere e il budget di cantiere. Dati questi vincoli, dovevano per assumersi le altre cose. Il committente accetta questo, quindi ribandisce il concorso e rinvita i cinque studi con queste regole, compreso un rimborso spese, minimo, ma io avevo chiesto che venisse dato un rimborso minimo per far capire che c'è un ingaggio comune alla cosa. Faccio breve, vinciamo il concorso e molto banalmente, la nostra risposta è siamo in un contesto stradale di Genova, la torre è esposta in tutte le direzioni, percepita le due direzioni, quindi la materia che prima era tutta una grande scatola di alluminio, lavoriamo sul vetro, perché oggi col vetro possiamo creare delle pareti che hanno capacità termiche quasi come i muri, hanno dei costi e cambiamo completamente il sistema strutturale, perché tutto ciò che prima era cemento posto sugli angoli, le scale diventano come dei gecchi che si muovono in maniera differente, ma non per fare solo un gesto architettonico, uno per liberare le forme, renderlo cangiante, ma allo stesso tempo per liberare le piante funzionali all'interno, che prima erano occupate dei nuclei delle scale, e automaticamente l'edificio è cangiante in qualsiasi momento della giornata, da qualsiasi punto prospettico della città, sette tipologie di vete, che vanno dal blu scuro fino al grigio chiaro, raccontano questo rapporto. E in una città che vive, come dice sempre Renzo Piano, del mugugno, che non è mai d'accordo su niente, semplicemente questa è la prima volta che sono tutti d'accordo su qualcosa che è immediatamente entrato in dialettica, in dialogo con la città, attraverso una forma che in qualche maniera era prestabilita, ma attraverso una logica in cui la materia è immediatamente entrata in dialogo con un contesto, fatto di una luce straordinaria, e con un edificio che viene percepito in maniera differente dal porto rispetto alla conoscenza di l'autostrada. In questi anni quindi abbiamo raccontato, forse si può capire alcune cose, come per noi parlare di città vuol dire parlare di un'urbanistica sentimentale, ovvero capire o cercare di capire come per esempio l'idea dell'abitare deve stare in queste idee di qualsiasi sono spesso netto un'idea di intimità e collettività. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che rifiutiamo il tema che l'edificio o il progetto si ferma alla linea del muro e quindi ci sia un interno che segue una serie di regole e un esterno che invece ha altre condizioni. Occorre che le due cose si mettano in discussione difficile, perché vuol dire mettere in discussione il pubblico e il privato, due progetti tipo differenti, ma rifiutiamo l'idea che noi possiamo ancora abitare in maniere indifferenti, in appartamenti o in edifici anche molto belli, ma dove non c'è più l'identificazione. Allora abbiamo cominciato per esempio da questa esperienza anche molto difficile, dopo il terremoto di San Giorno di Puglia, a riproporre, nella ricostruzione della città, che la nostra parte doveva in qualche maniera ricollegare quell'idea di intimità, di frattura determinata dal dramma. E allora ricostituiamo attraverso il colore, attraverso i volumi aggettanti o delle scale o dei bagni, una logica tale per cui chi abita in quel contesto si riconosce perché sta nel balcone rosso o nella scala viola o nel tetto a falda, quindi tale per cui immediatamente le persone si identificano. Si identificano da piccole cose e da rapporti interno e esterno. E questo ha permesso, in condizioni altre particolari, come questo progetto in Coutounure, al Benin, dove figurate un progetto invitato dalla Micopeia a sviluppare il tema forte nelle 50 villa all'interno del plot. Noi abbiamo detto che le ville non ci interessavano. Ci interessava discutere il concetto del muro di separazione tra lo spazio, che per loro non era pubblico, ma uno spazio invece di separazione tra la villa o meno, e invece quell'elemento lì doveva riparlare di un luogo. Allora il muro è diventato rosso, è diventata la geometria variabile, segnando gli ingressi, e automaticamente è diventato un luogo dove le persone si sono identificate. Quindi la sfida è stata quella in qualche maniera di poter raccontare questo tipo di aspetto. A giugno finiremo questo progetto a Parigi, dove lì, in un intervento di una SAC, che sono questi interventi concertati di trasformazione urbana, riportiamo e vinciamo questo progetto contrapponendoci a tutta l'impostazione degli architetti francesi che hanno sviluppato sin allora, riparlando di ritramare la città, ridare calma alla città attraverso ritmo e sequenza, attraverso una logica quasi classica di basamento, elevazione e coronamento, ma anche di separare i due edifici che hanno grandi in tre, facendo entrare dentro un rapporto, come vedete nell'immagine a destra, di un giardino pubblico e privato, perché in parte è privato ma viene attraversato dal pubblico ed ha questa logica di separare e di rapportarsi anche con la materia o con questa ceramica che poi vi racconterò questo tipo di rapporto. In più, ma quello raccontato un'altra volta, vedete qua in cima un personaggio, nel senso che nella presentazione abbiamo chiesto che venissero realizzati sei angeli di pietra che venissero posizionati là sul coronamento. Agnèsusen è una delle città storiche perché gli impressionisti hanno iniziato lì a lavorare, siamo ai bordi della Senna a nord, ma lì c'era un contesto dove i sei angeli dovevano in qualche maniera creare quel rapporto ricercandoli, non si mettono in visibile, il rapporto di sguardo verso il territorio del paesaggio e di guardarsi fra di loro gli edifici in qualche maniera di dare un'identità. È stato sempre visto come una cosa che non voleva essere decoro ma voleva essere in qualche maniera invece raccontare questa storia proprio a sicuro nel momento più interessante del cantiere quando questi angeli hanno cominciato a volare e a essere portati su in alto e automaticamente ha preso vita l'elemento e quindi capire come l'arte o la storia che ha preso per raccontare poi è il medium più forte rispetto a molti altri discorsi che tra architetti possiamo fare per poter raccontare questo. E questa modalità recentemente ci ha fatto vincere questo importante concorso voi dovete sapere piccola notazione che Parigi e la Francia negli ultimi anni sta lavorando su due degli ingredienti che io ritengo fondamentali per le città infrastruttura e massa critica non si può pensare di un futuro per qualsiasi tipo di città se non si lavora su questi due aspetti perché ormai non siamo più l'Europa delle nazioni ma siamo l'Europa delle città siamo il mondo delle città ovvero se prima i baricentri i pesi erano dettati dei paesi oggi sono le città e le città anche quelle più ai confini dell'impero quelle anche più distante fino ad alcuni anni fa possono diventare strategiche importanti se sono connesse quindi se investono sull'infrastruttura e se lavorano sulla massa critica Parigi sta facendo un grande intervento di una nuova linea che si chiama Gran Pari che produrrà 186 stazioni che allarga non lavora più sulle dettrici esterne allarga il sistema della metropolitana di una nuova cintura connettendola poi al sistema metropolitano interno e poi da lì irrigandosi automaticamente portando tutto ciò che oggi è a 15 km però un'ora di macchina a 10 minuti di metropolitano quindi ribaltando tutto tutto ciò che oggi è distante diventa vicino tutto ciò che oggi diventa impossibile perché magari devo abitare molto fuori diventa lì e a fianco all'infrastruttura ogni stazione svilupperà un progetto connesso ovvero luoghi dove c'è un tema di innovazione funzionale e l'anno scorso hanno lanciato i primi del concorso e noi abbiamo avuto la fortuna di vincere il primo a Cretel dove uno dei temi forti per cui abbiamo vinto non vi racconto in dettaglio questo è proprio come vedete in questo modello la deformazione della soglia tra lo spazio pubblico e privato tutto ciò che immediatamente era marciapiede e poi edificio noi l'abbiamo deformato creando una sequenza di piccole corti grandi corti dove gli accessi all'età deformavano il rapporto col pubblico e ingaggiavano un rapporto differente tra collettivo e intimità privata questo facendo in modo che la stazione a quel punto diventa parte di questo sistema e non un elemento aggiunto nel dialogo con la storia naturalmente noi ci siamo confrontati tante volte con situazioni particolari grandi e piccole dalla prima università Savona da questo che il museo ha giocato di Cormano dal palazzo del ghiaccio a interventi anche molto piccoli come questo un intervento da 300.000 da 400.000 euro che aveva il significato di una piccola città di far capire come una città in Liguria aveva molto investito per dare lavoro ma si era dimenticato di costruire uno spazio pubblico di relazione uno spazio per i bambini e fino all'esperienza importante del recupero dell'OGR per i 150 anni Volentà d'Italia dove tutto il tema di mettere in scena gli spazi esterni come nuova conquista di spazi pubblici avviene attraverso un lavoro sulla materia una ghiaia ceramizzata che in qualche maniera ricostruisce nei due nella piazza rossa nel giardino verde la bandiera italiana automaticamente diventa per almeno un anno un luogo che i torinesi rimettono alla loro mappa mentale e che ricostruiscono una modalità diciamo di questo rapporto tra l'interno e la stella che raccontavo prima come avviene questa nella post-luv di Parigi e che automaticamente ci ha portato a un rapporto con la materia adesso vi racconto velocemente tre progetti che provano spero a descrivere meglio quello che vi ho detto di solito si dice sempre noi facciamo sempre che quando uno fa un concorso o quando uno presenta un progetto dovrà avere un'idea presentarla e non creare confusione in questo concorso siamo a Brescia essendo il tema il piano urbanistico era definito con grandi regole poi vi dirò come e il committente ha chiesto a una serie architetti di fare le proposte sulle facciate allora a quel punto per poter raccontare i nostri dubbi proponiamo sette modalità dicendo quello che vorreste quello che normalmente si fa quello che normalmente viene compreso quello che normalmente succede quello che lì a Brescia sta succedendo quello che ci piacerebbe fare queste sette soluzioni con nostro stupore viene scelto quello che noi proponiamo l'area ai limiti del centro storico un'area industriale importante dove è stato fatto uno dei grandi concorsi nel 2001 per il museo del lavoro che poi è stato realizzato e come tanti progetti che sono frammentati c'è un piano urbanistico che praticamente ha imposto tutto altezze geometrie sagomi regole ha imposto tutto quindi automaticamente il tema diventava buh scegliere la facciata il materiale ma non era questione puramente estetica il tema era che non voleva dire e dare una risposta all'abitare e allora noi abbiamo cominciato a far capire comprende che comunque abbiamo letto le regole come vincoli e abbiamo cercato di capire se i vincoli potrebbero portare dei risultati allora abbiamo cominciato a dire separiamo concettualmente l'edificio in tre parti base tronco e elevazione facendo in modo che in queste tre cose devono avvenire cose diverse perché c'è una relazione di verità al suolo nella parte centrale in alto facendo in modo che questa declinazione possa creare delle modalità differenti di abitare di rapportarsi verso l'esterno di creare logge terrazze e il morphing piano piano diventava questo stando sempre dentro alcuni elementi per andare a raccontare un progetto che l'elemento monolitico potesse diventare un rapporto di stratificazione verticale verso strada mettendo in gioco come i piani terra potrebbero diventare dei piani terra importanti che aveva bisogno di una narrazione ovvero l'uso della materia per poter raccontare come questo elemento monolitico potrebbero diventare un racconto in successione e allora disegniamo realizziamo una ricerca che da tempo facciamo con la ceramica una ceramica diamantata che poi vedete che reagisce in maniera sempre differente con la luce un sistema di fibrociamento particolare e una nuova facciata in legno che potesse raccontare questa strategia ciò che all'esterno è stratificazione orizzontale all'interno diventa sequenza verticale e automaticamente è chiaro che uno possa identificarsi tipologicamente ed esce dal monoblocco e affermiamo che sia la materia l'elemento che possa determinare questo e questo molto brevemente è ciò che è successo questo edificio qua ha questa materia estremamente particolare ovvero noi abbiamo da anni lavorato sulla terza dimensione perché la terza dimensione tecnicamente è molto difficile per la ceramica perché il modo di cuocerla crea delle grandi scompensi ma è il sistema straordinario per scomporre la luce e fare in modo che l'edificio non sia mai uguale a se stesso quando utilizziamo il diamante grigio grigio e argento e quando presentiamo un progetto ci chiedono sempre di che colore sarà l'edificio e io ho difficoltà a dire di quale colore perché se abbiamo un albero verde vicino diventa verde se il cielo azzurro diventa blu se il cielo grigio diventa grigio se è molto alto si scompare con il bianco perché la diamantatura porta a questo tipo di rapporto in più si crea quella condizione di identificazione col luogo si crea quella condizione tale per cui gli elementi mettono in scena reale chi abita in quel contesto vi si identifica si relaziona col contesto in più siamo in un contesto attivamente tecnologico non è solo una ricerca sulla materia ma anche una ricerca sulla posa come vedete le percepite minimamente qua che sono lastre 60x60 ma è un primo sistema di applicazione con la posa aggiunto zero ovvero la lastre viene affiancata secondo la tecnologia nuova che ormai è diventata anche più competitiva a livello economico e che permette di avere questa idea di monoliticità e vedete come la sequenza urbana e il racconto tra la tipologia degli edifici della stratificazione verticale orizzontale e il racconto della materia costruisce una storia costruisce anche punti che potrebbero essere banali tra rapporto interno e esterno e punti urbani estremamente importante è quello che noi cerchiamo di chiamare come meraviglia o stupore ciò lì in atteso in maniera semplice edifici residenziali costruiti a 1000 euro a metro quadrato attenzione 1000 euro a metro quadrato ovvero la ricerca e la responsabilità da parte dell'architetto è rimettere in circuito quei dialoghi che dicevo prima non è che l'abbiamo fatto a 1000 euro a metro quadrato perché non costano di più ma perché la ricerca fatta l'ha messa di dialogo con le aziende con le imprese con il committente ha reso virtuoso quello che normalmente è un processo che non è virtuoso e che disperde energie ed economie e quindi 4 sistemi di facciate completamente diverse hanno lottato fino alla fine per trovare l'equilibrio e la facciata in legno che all'inizio a livello progettuale era fatta in un certo modo l'impresa vince con un ribasso doveva costare la metà ripartiamo con la ricerca finché non riusciamo a trovare un sistema tal per cui alleggeriamo la sottostruttura e riesce a costare 160 euro a metro quadrato invece di 260 e costruiamo questo paesaggio tale per cui il rapporto con l'esterno come vedete è ricco dopo di vista luminoso e di percezione ma in più diamo risposte di tipo funzionale tutto ciò che prima i tetti piani non erano valore con il sistema della facciata in legno tutti i lastricati orizzontali diventano terrazze solari ma quindi la tecnologia la scelta del materiale il racconto della storia porta dei vantaggi anche economici commerciali di inventare degli spazi che prima erano spazi persi fino a creare una loggia passante dove la materia monolitica rifrange la luce in maniera differente ogni volta questo sta venendo in maniera ancora più importante la scala della città alcuni anni fa vinciamo questo concorso per la nuova sede della BNL BNP Paribas a Roma in un contesto molto particolare siamo nel nodo infrastrutturale più importante arriva l'alta velocità i treni la metropolitana la scelta del comitente estremamente virtuosa quasi non italiana ovvero raggruppare sette sedi in un'unica sede da 3500 persone dove sullo snodo infrastrutturale portando per la prima volta la condizione in cui 3500 persone si muoveranno con i mezzi pubblici e liberano gli edifici nel centro urbano questa condizione intelligente virtuosa imponeva dal nostro punto di vista del concorso che l'edificio potesse cogliere questa occasione difficile perché l'otto estremamente piccolo bisognava realizzare 70 mila metri quadrati su un'impronta da 5000 metri quadrati sopra l'infrastruttura dell'alta velocità a fianco alla grande stazione dell'alta velocità ovvero non c'era spazio in più c'era il vincolo di questi torri d'acqua del Mazzoni che arrivano fino alla stazione Termini che era un vincolo che era determinato dal vecchio piano urbanistico che prevedeva gli edifici trasversali e quindi lasciava questo cono visivo che secondo noi dal punto di vista di destinare un'unica funzione lì non aveva senso e quindi abbiamo ribaltato il concetto creando questo contesto all'inizio del concorso creando una logica tra cui l'edificio doveva lavorare con la dimensione del luogo doveva rapportarsi con questa specie di Giano Bifronte rapportato verso la città storica e il contesto doveva in qualche maniera mettere anche nella condizione di avere un nucleo centrale di distribuzione capace di distribuire questa grande quantità di superficie e al suo tempo deve diventare un elemento percettivo della città tutto il progetto nasce da queste tre azioni il rapporto con il territorio della città la gestione dei flussi perché naturalmente è significativo e l'ongorizzazione spaziale del lavoro questa è una nuova diversione oggi vi riempiranno la testa di tante codifiche smart working co working che poi alla fine nella sostanza vuol dire che si andrà sempre di più e ci sta succedendo sul fatto che molte persone lavoreranno quattro giorni in ufficio e un giorno a casa oppure lavoreranno in spazi che per il 25% poi il 30% poi il 50% saranno informali lavoreranno perché uno al computer si sposa quindi una condizione di lavoro estremamente flessiva in cui la spazialità cambia in questa logica anche l'architettura deve avere delle riflessioni perché non siamo più in una logica estremamente seriale questi schemi iniziari di concorso vi faccio vedere per capire come la genese del progetto si muove su un'azione fondativa immediata che è un tema importante e poi come trova azioni per raccontare il tema della permeabilità della messa in scena del rapporto con la città in più c'è un tema di rapporto importante per noi sempre con l'arte come meglio o come rapporto con la città e quindi questa occasione della città di confrontarsi con due grandi panorami e quindi di farlo diventare un vero dispositivo perché arriviamo a 50 metri di altezza sopra altri venti di infrastruttura quindi la vista da lì su Roma è estremamente particolare e in più sono due sguardi differenti allora quest'idea di edificio percettivo ci porta a dire l'edificio percettivo da un lato che guarda verso Roma è anche quello più cinetico quello che lavora con la percezione di chi arriva col treno e quindi riteniamo anche per rispondere a una questione tecnica una grande facciata a Roma tutto esposto a sud est quindi dal punto di vista di risaggiamento potente lì tutti volevano gli schermi lì l'architettura sarebbe stata già condannata noi abbiamo detto fino all'inizio non c'è problema lavoriamo con la materia lavoriamo con queste pieghe che raccontano il tema cinetico e lavoriamo con l'idea che l'edificio da un lato si copre si protegge e ha una nuova facciata in ceramica particolare ben disegnata e dall'altra invece racconta questa storia quindi questi due anni questi due modi di rapportarsi costruiscono l'idea e questo primo modellino racconta l'idea facciata modellino che è estremamente interessante per raccontare il concetto ma ovviamente si basava sul fatto che fossero dei fogli di alluminio che immediatamente raccontavano un'idea di riflessione e trasparenza differente estremamente convincente ma facile bisognava tradurre questo in realtà il riferimento per noi era arte contemporanea importante che lavora nei luoghi urbani parlo di Buren contro i suoi interventi parlo del più contemporaneo Eliasson sul tema della riflessione sul tema della trasparenza sul tema della percezione e tra gli architetti e gli artisti che lavora maggiormente e in più c'è un tema di materia diversa quindi questa è la geometria della facciata che ha una difficoltà particolare che vi racconto e questa è la parte elettrostante la volontà era che questa facciata con sette tipologie di vetro differente con pieghe di tipo differente potesse ogni volta essere cangiante in condizioni di cielo differente al tramonto alla mattina situazione per cui l'elemento fosse veramente un edificio con cui ognuno potrebbe reagire a seconda delle situazioni queste sono immagini in fase diciamo di concorso ma poi essendo questo un tema molto difficile e molto complicato da poter giustificare questo è la prima prototipo della piastrella in ceramica che poi farò vedere a un certo punto nel dubbio perché bisogna avere dubbi in fase esecutiva quindi non richiesto decido di sviluppare a Parigi con dei giovani si chiama RSI Magi sono dei giovani che fanno immagini ma secondo un concetto molto particolare legato alla materia e allora ho chiesto a loro di lavorare due o tre mesi insieme e abbiamo modellato tutta la siamo andati a Roma insieme captata la luce di Roma poi abbiamo modellato tutto l'edificio modulo per modulo applicando le caratteristiche tecniche del vetro e renderizzato al massimo il sistema quando le risposte del 3D delle immagini sono diventate per noi convincenti di ciò che avrebbe dovuto essere sono queste le immagini abbiamo sentito di prenderci il rischio di dire che sarebbe dovuto succedere perché questa cosa qua non si può controllare si può intuire pensare ragionare ma poi si deve in qualche maniera pensare che possa arrivare soprattutto questa immagine noi vorremmo questa immagine che tutti pensano prima che fosse realizzato l'edificio che fosse una foto adesso le foto che vi farò vedere penso che sono delle immagini entro il momento interessante questo rapporto tra l'immagine e la reale e a quel punto l'edificio sarà finito l'involucro dopo l'estate e entro febbraio il BNL si installerà e il cantiere privato più grande d'Italia per far capire la difficoltà e la difficoltà sta nell'avere costruito questa qua all'interno di condizioni tecniche particolari non abbiamo grandi altezze perché siamo vincolati dall'altezza massima urbanistica però già quando lo scheletro è arrivato ha avuto un impatto positivo nella città si è capito perché abbiamo alzato la punta si è capito perché quell'edificio lì quando oltre a calzare la punta piega finisce la punta un prospetto di 6 metri quindi l'elemento che arrivando da sud si percepisce come un elemento che si comprende o non si comprende per poi disvelarlo in maniera completamente differente e come vedete ha una percezione del paesaggio sempre differente laddove c'è la torre d'alco l'edificio si rastrema si riduce di spessore crea un vuoto e lì c'è il tema di avere lì gli spazi informali perché la manica da 18 diventa da 12 da 6 e crea anche una trasparenza differente al primo montaggio della prima parte sottostante tutti erano molto preoccupati succede sempre perché la fase di cantiere è tale per cui c'è un momento in cui le cose sembra che non vanno bisogna avere calma e pazienza e incrociare le dita quando sono cominciato a montare le corte interne e quando sono arrivate le facciate complete è successo quello che pensavamo cioè che l'edificio ha la sua vita torna la porta col cielo con l'orizzonte in maniera sempre differente quella logica delle pieghe si è compreso che non è un gesto puramente architettonico ma un modo per poter rifrangere e raccontare la luce in maniera sempre differente ne cambia la percezione in termini di dimensioni ne cambia completamente il rapporto volumetrico e racconta ogni volta qualcosa che interagisce con qualcosa di estremamente variabile dalle 5 dalle 4 e mezza di sera essendo esposti verso il tramonto della città fino a quando si fa notte non c'è un minuto in cui l'edificio è uguale a se stesso e parlo stamente in una città molto complicata come Roma non ci sono state critiche su questa cosa cosa che io mi sono rispettato per mille motivi la dimensione l'importanza siamo a Roma cioè l'architettura questa facciata empaticamente ha dialogato subito con le persone anche più normali perché ha raccontato una logica di questo tipo edificio come fiera costruito a 1250 euro metro quadrato dico il prezzo del costo metro quadrato per far capire perché è importante la realtà delle questioni i vincoli costruire questo tipo di edificio con questi vincoli strutturali impiantisti di facciata impone da parte dell'architetto perché la colpa e la solità sarà sempre dell'architetto se non ci si arriva un certo tipo di approcci di lavoro in profondità che ha bisogno di quello che dicevo all'inizio del dialogo della porta la cosa molto difficile è che per fare quelle pieghe e affinché quelle pieghe non avessero o avessero proprio l'idea di foglio piegato la cellula entro il momento in maniera tecnica più importante che normalmente viene fissata da solaio e che immediatamente anche io pensavo di farla così non funziona perché se studiamo il solaio ci portiamo fuori lo spessore del solaio quindi la piega aveva avuto uno scalino di 20 cm e quindi a un certo punto quando tutti non riuscivano a trovare la soluzione abbiamo detto semplice disassiamo la cosa e la cellula non si fissa da solaio a solaio ma si fissa in punto intermedio tra una e l'altra scavallando il solaio quindi la piega è un sistema di sopravversione di cellule variabili sempre che piega nelle due dimensioni verticali e orizzontali e che è sostenuta in maniera sbarca l'una con l'altra lì sta la difficoltà perché al di là strutturale che è più facile perché da lì entra l'acqua il tema difficile è come da lì attraverso la struttura riportare fuori l'acqua mantenendo come vedete in realtà ci sono 5 cm di salto se andate vicino ma 5 cm con questa dimensione percettivamente sono possibili li vedete qua e questa è la grande facciata in ceramica abbiamo realizzato una nuova grande piastella che mi ha chiamato snack con la pelle di uno serpente che rende uno spazio assolutamente difficile il committente stesso non aveva capito la bellezza di questo spazio e oggi lo vuole rivalutare perché aveva pensato che è uno spazio funzionale tra le due stecche edifici perché questa materia ha portato la luce giù a 50 metri laddove la luce non poteva arrivare perché un edificio è 12 metri attaccato all'alto con grandi passarelli la luce non arriva è la materia che la porta giù chiudo con un racconto dei docks di Marsiglia non entro nel progetto ma vi voglio raccontare una cosa di Marsiglia uno come vinciamo il concorso committente JP Morgan quindi committente anglosassone americano molto strutturato e costruta una promotora indipendente francese ma molto innovativo è un concorso per dialogo confronto a 15 a 5 a 3 a 2 il comitato francese convinto anche dopo aver visto i frigorifri milanesi propone la nostra scelta l'americano dice sì no tutto bene ma non hanno mai fatto niente in Francia non hanno mai quindi la cultura anglosassone attenzione non ti permette mai di fare una cosa se non l'hai già fatta se non sei strutturato e allora il francese come è convinto impone l'ultima regola invita di nuovo i due studi gli ultimi due studi rimasti il sabato mattina a rivisitare i docs e da tre giorni di tempo per fare una proposta e presentarla poi a Parigi giovedì dopo perfetto e qui mette in campo la generosità la messa in gioco la disponibilità la logica francese come anglosassone io ti do tanto se tu mi dai tanto noi non facciamo un lavoro che può essere misurato tu mi dai questo soprattutto nella fase creativa lì l'incontro era con una città con un luogo straordinario i docks di Massiglia dopo quelli di Londra sono i più grandi docks del mondo la città quando è stato costruita nel 1850 è il terzo grande edificio in Francia la città ha voluto a un certo punto spostare via e porta la giogliette e costruire tutta una città portuale che fino al 1995 non era mai parte della città è la più grande opera di rigenerazione urbana europea che ha inizio 25 anni fa e che adesso sviluppa la seconda fase un contesto straordinario e il luogo dell'edificio particolare imponeva normalmente un impegno importante giovedì dopo presentiamo il progetto la strategia il racconto che si basava su alcuni elementi estremamente importanti l'edificio è troppo importante per poter interagire in maniera semplice con esso è un edificio che si costruisce secondo una cabola numerica lungo nella parte storica tranne l'hotel di direzione 365 metri a 7 piani a 4 corti e a 52 linee di finestra sono i numeri del calendario secondo quasi una cabola massonica l'edificio è esatto è preciso geometricamente è massivo è importante come poter interagire con questi edifici entrando in dialogo con esso e facendo comprendere quella che secondo noi doveva essere il suo nuovo ruolo ovvero come in queste immagini di concorso la facciata nord che non è mai stata una facciata perché non c'è mai stata città e dove oggi si accostisce la città diventa una nuova piazza contemporanea percepita dalla sopraelevata percepita dalla nuova parte urbana e quindi diventare un racconto di come si entra in questa città ma allo stesso tempo questo simbolico edificio costruito attraverso dei numeri che aveva questo contesto molto duro molto monumentale monomaterico che aveva già avuto una sua ristrutturazione nel 95 che però se aveva risolto il tema di dare 50.000 metri quadri di uffici non aveva risolto il rapporto a terra con la città un edificio che separa la città perché perfettamente nord sud non crea rapporto con il mare non crea rapporto tra le due teste e la nostra idea è lavorare su questa idea che seppur il committente è privato questo deve diventare un luogo pubblico questo deve diventare poroso questo deve diventare permeabile questo deve diventare materico questo deve parlare di mediterraneità deve raccontare una storia tutto ciò che è aulico monumentale eterno all'interno diventa un racconto di una storia due corti vengono scavate per sfruttare gli spazi delle cave sottostanti e un tema di materia dalla natura alla ceramica racconta una sequenza di spazi fino al masce finale che vuole in qualche maniera parlare di un'intimità nuova di un luogo di vita più di un luogo di attraversamento la sfida di un progetto urbano per me è quello di far diventare un luogo un luogo di vita i luoghi spesso nella città urbana si differenziano se è un luogo che viene attraversato o diventa un luogo di vita il luogo di vita ha bisogno che le persone si identifichino con questo spazio perché deve accadere qualcosa e occorreva che questi spazi commerciali non fossero tipicamente in un concetto contemporaneo non ci devono essere marche classiche devono essere tutte indipendenti possibilmente con degli attori che li realizzassero i prodotti nasce anche tutta l'idea di aprire e rendere estremamente poroso l'edificio e di raccontare un tema di di storia ceramica questi disegni la difficoltà di questi disegni è che quando si disegna anche bene così Photoshop è straordinario avere questi sette blu è molto facile la difficoltà di questo progetto è che questo progetto è stato fino alla fine su un crinale dove automaticamente io scherzosamente ma abbiamo avuto momenti difficili questo automaticamente in un secondo può diventare un grande box doccia di piastrelle e il rischio era notevole per non rischiare questo occorreva che la geometria la tecnologia la materia potesse raccontare con la sfumatura verso la luce quindi abbiamo chiesto di realizzare sette tipi di blu differenti e di posarli in un certo modo e quando abbiamo capito che non era sufficiente il sistema canonico abbiamo disegnato 850 pannelli noi direttamente abbiamo detto apposatore questo deve avvenire questa è la regola abbiamo chiesto a Casal Grande di farci questi sette blu che pian piano sfumavano i pannelli tecnici e che richiamavano a quest'idea a non dei blu definiti qualcosa un po' come nelle pitture di roccio in cui il colore è unico ma è quello che viene delle sfumature che danno profondità di tipo differente e dove il richiamo culturale andava da Gaudi che però aveva un'idea più di piastrelle quindi era un tema più di ceramico popolare al grande elemento popolare che invece mixa diciamo gli elementi poveri la ceramica poi diventava un'altra storia ovvero nella seconda corte diventa un elemento che tecnicamente in Francia non si può fare ovvero abbiamo fatto una piastrella una foglia in ceramica realizzata come un artista dal Bissola portata a casa al grande per renderla come un processo industriale rispondente alle regole normative del SSTB parigino per poi essere approvata dal buro dei controlli in Francia avete delle regole burocratiche di approvazione del progetto durissime che impone praticamente tutto quindi se non siete forti tecnicamente per proporre qualcosa di nuovo in questa momentà non è possibile ma sì è questo che è successo siamo riusciti contro il loro scetticismo a fare qualcosa che normalmente in Francia non si può più fare il rimando dei Verdi era di questa opera di Venini fatta con una scarpa in più c'è il tema di come portare su invece un'idea di natura rifiutando il concetto francese della parete alla blanca ma interpretando l'idea della natura che sia capace di aggrapparsi fino a 30 metri inventando questo sistema di vasi con maglia metallica che si ordiscono ogni 5 metri e quindi dispongono come nelle nostre corti mediterranee la possibilità di crescere verticalmente quindi disegnando appositamente un vaso studiandolo con uno dei più grandi vivai europei che è a Pistoia lavorando poi con sette tipologie di jasmine che si sono capaci per colore profumo dare un tipo diverso fino all'ultima corte dove qui richiamiamo Cristo ed era l'unica corte in cui non tocchiamo le facciate sono l'unico punto che era una specie di elemento capace di rivarberare la luce in maniera differente e poi c'era riportare la scrittura nella facciata nord riportare la scrittura nell'architettura per noi una storia che abbiamo fatto in altri progetti e qui però diventava importante come far diventare subito quella piazza lì identificata come i marsigliesi la nostra idea fino all'inizio era che ci fossero dei testi che raccontassero questo non volevamo piacere la responsabilità di scrivere questo da qua allora abbiamo chiesto di fare un concorso tra artisti bella idea sì sì ma non si è riuscita a fare poi abbiamo chiesto un comitato di saggio di Marsiglia sì bella idea ma poi il cantiere avanzava a un certo punto siamo iniziati a leggere noi dei libri fino ad aver trovato una serie di libri che raccontava come dai tempi dei greci tanti scrittori fino al conto per anni hanno parlato di Marsiglia come luogo di destinazione come racconto popolare come racconto politico come racconto di commercio allora abbiamo scelto 56 di questi artisti li abbiamo scritti con un testo per fare in modo che le persone attraverso la parola si potessero identificare in più serviva un altro tipo di lavoro come raccontarlo in maniera tale che potesse essere immediatamente chiaro questo tipo di vista e poi abbiamo invitato Tapiro Design che è un grande grafico di Venezia con cui abbiamo fatto un libro per raccontare questo adesso vado veloce fino all'immagine finale che queste sono tutte le fasi diciamo di ricerca della materia e anche qui ci sono dei personaggi come spesso ci sono i nostri progetti ovviamente non potevamo non avere come i nostri primi abitanti di questi luoghi due animali un gecko una libellula che sono diventati i primi abitanti dei docks realizzati in ceramica potete pensare alle facce dei francesi diciamo questo e un cantiere che voi capite da queste foto la difficoltà di toccare questo edificio massivo importante noi in maniera chirurgica abbiamo dichiarato la nostra azione c'è stato un momento in cui il cantiere aveva 20 dischi diamantati di questo tipo che in maniera chirurgica hanno aperto delle nuove aperture per portare luce trasparenza e porosità l'edificio rimane così nel suo esterno e qui è il montaggio della corte blu altra sfida per vincere questa sfida il dialogo è stato con sette aziende italiane non perché siamo italiani abbiamo avuto italiani perché la capacità dell'italiano è quella di poter rendere possibile tecnicamente esteticamente economicamente i progetti perché non la affronta rispondendo alle regole ma le prende come sfide e raccontano loro stesse crediamo che l'effetto doccia sia stato eliminato visto che la corte blu insieme alla facciata nord è il posto dopo la pensilina di Foster specchiante e il Bussem più visitato è diventato subito simbolo diciamo di Marsiglia e vedete come la luce in questa corte che non arrivava viene portata giù il grande blu della prima corte variabile percepibile in maniera diversa secondo la luce diventa il sistema dei verdi delle ceramiche e dei vasi dove vedete il sistema che è variabile nel suo modo di disporsi per creare poi nel tempo una spontaneità alla natura di appropriarsi degli spazi la grande trasparenza trasversale qui vedete queste grandi cornici dove abbiamo convinto un'azienda che ha 850 anni di storia che ha Murano Ferro Murano di farci questi elementi rifiutando di utilizzare l'acciaio inox come l'idea di riflessione perché siamo nel Mediterraneo con questa cornice fatta dall'artista e qui c'è una stratificazione di elementi di Geki di Bellule le persone che con stupore e meraviglia riscoprano questo spazio che prende anima che è cangiante ogni giorno dovete sapere che a Marsiglia c'è un mistral un vento molto importante che si infila lì dentro con una violenza significativa che racconta ancora di più in maniera particolare questo spazio le grandi vele la percezione la percezione dello stesso edificio ripetuto quattro volte perché è sempre quella di se stesso diventa diverso perché ogni volta oggi attraverso la materia la specialità racconta una storia differente scena in maniera differente l'edificio stesso e all'interno la grande mall che prima avete visto l'immagine non era trasparente diventa qui convince i francesi che si poteva fare delle vetrate senza serramento inizialmente ho detto che era impossibile se non costava una follia a quel punto ho chiamato uno di Bergamo che non parla francese l'ho portato in cantiere FGF qui vicino ho detto Davide si può fare? si può fare? ci stiamo nel budget? ho detto monsieur si può fare basta che firmate il contratto con lui e si può fare e abbiamo fatto senza parlare francese non l'abbiamo fatto e poi anche la luce che poi è un altro tema tutta la luce lavora nel rompere la figura lineare della corte fino alla grande facciata nord dove la sfida qui dovete fare attenzione a una cosa e qui chiudo un comitente come JP Morgan un edificio di questo tipo dove a fianco è stato costruito un grande centro commerciale classico 40.000 m2 mentre noi facciamo questo progetto quindi grande competitività commerciale un sistema contro l'altro che si lottono in maniera forte ovviamente lì gli americani secondo voi cosa volevano in quella facciata una bellissima insegna grande con scritto le doc per forza cosa volete che gliene fregava dopo mesi lentamente con pazienza ha detto no l'edificio è già l'icona le scritture devono rimanere la cosa che possiamo fare è raccontare questo testo in maniera tale i docs che vengono fuori all'interno di questa scrittura e quindi abbiamo lavorato con tapire in questo modo quindi abbiamo evitato l'insegna tipo Las Vegas l'edificio legge i docs c'è la grande di le foto ma ha fatto capire che oggi alcune regole di tipo commerciale possono essere superate attraverso approcci di tipo diverse e coglie lo stesso obiettivo cosa di cui adesso sono convinto soprattutto dopo aver vinto il MIPIM di aver colto perché hanno scelto una strada innovativa diversa rispetto all'attualità una risposta vi saluto così grazie grazie Alfonso mi sembra che questo racconto che ci ha fatto Alfonso sia stato molto stimolante pieno di spunti ne riassumo ne sintetizzo tre che sono secondo me importanti uno è appunto quello di affrontare il tema dell'urbanistica dal punto di vista della qualità dell'architettura e quindi scardinare la logica dello zoning attraverso quello che appunto Alfonso ci chiama master plan strategico dove gli spazi sono dati da una sensibilità architettonica e non quantitativa il discorso sulla materia ceramica legno cemento diventano un dispositivo uno strumento compositivo di invenzione base di ogni progetto e poi la dimensione narrativa del progetto raccontare storie Alfonso ha parecchie volte appunto insistito su questo tema la dimensione narrativa come tema di progetto come per esempio in questo ultimo racconto sui docs quasi un piano sequenza di tante scene collegate tra loro da scoprire appunto con la sensazione di meraviglia ringrazio quindi Alfonso di questa bellissima lezione e invito grazie a tutti grazie a tutti